Ciao ragazzi, come state? Io bene, anche se un po' triste perché questo video lo sto facendo apposta perché da oggi dichiaro ufficialmente aperta la mia dieta. Dopo un'estate di stravizzi, dopo un'estate di sgarri, infatti la mia forma fisica non è stata proprio al massimo ma non ci fa niente, sono magra, un po' di corse in più e si riprende subito la forma fisica devo dire addio al mio prodotto preferito di cui vi volevo parlare da tanto tempo. Il mio prodotto preferito è questa, questa Nutella di Vivo, Vivo è un'azienda che si occupa proprio di fare cioccolato crudo cioccolato e Nutella crudo, quindi senza tostare le fave di cacao. Io preferisco questo prodotto in quanto quando mangio la cioccolata normale ho sempre un po' di emicrania quindi questo è un prodotto più genuino e non fa male. Una Nutella veloce strepitosa la adoro, infatti quando apre il barattolo lo finisco quasi tutto a base di cioccolato crudo e di semi di zucca tostati e soprattutto zucchero da fiori di cocco quindi con un bassissimo indice glicemico. Eccolo qua, ve lo faccio rivedere. E quindi posso dire addio a questo benedetto baratto di Nutella chiuso Ciao caro, ci rivediamo tra un mese, ciao! Per incominciare a utilizzare questi Allora, vi devo dire che non sono malissimo Questi qua sono degli sciroppi da mettere, dei topping da mettere sopra il pancake o da utilizzare quando puoi che di dolce a zero calorie e gusto miele Ho fatto la scorta ragazzi, gusto fragola Gusto cioccolato Gusto caramello Ok, per questo mese utilizzerò questi E poi una cosa che io amo Ecco, questa mi fa impazzire veramente anche se è zero calorie nel senso che è senza zucchero con uno zucchero zero calorie dolcificato con uno zucchero zero calorie Questa è una farina HTS aromatizzata al gusto latte e biscotti Ve lo giuro da provare, strepitosa, buonissima Quindi ragazzi, che dire Da oggi si comincia a soffrire Un mese ci sta Speriamo vada tutto bene al campionato L'importante è ottenere un buon punteggio e partecipare sempre A presto, ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti